Non quello dove l'insulta, è vero, non è vero, sono vecchio, ecco, Pausini, Pausini, Laura, che è il significato nuovo, sai cambiano, allora vediamo, guarda questa, ciao Fiore, sono a Fus, non era Laura, ma questo è il dottore, perché io gli ho detto, Laura vogliamo fare una cosa, volevo organizzare una cosa, perché visto che ormai balliamo, parliamo, parliamo, c'è Laura, c'è Claudio, 16 novembre, 16 novembre, facciamo una cosa che figata, sì, però mi sa che Laura, se non la mimì tu, non credo che possa aprire porta, quindi è meglio che le facciate stare zitte in silenzio, riposare un attimo, fino a sabato, perché è un'infiammazione da trattare un attimo, ok? Questo è 12 e 37, le 12 e 37 di, c'è scritto? Ieri. Ieri? Ieri? Sì, sai. Andiamo. Non vuoi fare un duetto con me, con la voce così, magari vieni bene, dai, comunque guarda, veramente la sfida che è totale, non ho parole. Bene, adesso vediamo cosa succede nei prossimi giorni, intanto un bacione, ciao. Mi sembra che sia bene, sta benissimo. Questo è ieri o altro ieri sera, credo.